Sicurezza ed economia nel programma straordinario di investimenti sulla viabilità dell'intera provincia di Salerno presentato questa mattina a Palazzo Sant'Agostino. Opere e grandi opere con investimenti complessivi per circa 100 milioni di euro, ma anche lavori di lotta al dissesto idrogeologico, a protezione delle infrastrutture e opere di manutenzione straordinaria diffuse su tutto il territorio per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza stradale. Ne hanno parlato con Marcellato Orgoglio, il presidente della provincia strianese ed Antonio Rescigno, consigliere delegato alla viabilità. Si tratta di riprogrammazione di vecchi fondi e 2 milioni e mezzo sono riprogrammazioni di fondi che erano sulla 430, la cilentana che ora è passata all'ANAS e altri 9 milioni per realizzare tantissimi interventi rilevanti su tutta la provincia. Quindi usufruiamo di una, come dire, manforte da parte della regione molto consistente. Con il piano di manutenzione del 2019 realizzeremo circa 100 interventi localizzati in tutti i posti, tutte le zone della provincia di Salerno, su tutte le strade che necessitano di manutenzione. Per cui stiamo lavorando su circa 40-50 cantieri già adesso e investiamo nei prossimi mesi circa 100 milioni di euro. Sicuramente per l'economia della provincia di Salerno, con questo piano che ha tutte le opere di grande importanza, come diceva il presidente prima, ha anche il piano straordinario per la messa in sicurezza per gli interventi puntuali di manutenzione, quindi più ordinario che straordinario. Quindi circa 100 cantieri che saranno realizzati con un metodo di valutazione. Ovviamente ci sono tante le strade ancora da intervenire, ma si è dato priorità alle strade che hanno più percorrenze, più incidenti, più traffico sulle stesse. Quindi con questo piano che finalmente riusciamo a dare risposta al territorio, come diceva il presidente, giorni sono in corso i lavori, ma partiranno ancora circa 30 gare di appalto per le manutenzioni. Un'area che è stata divisa, già la provincia era divisa in due zone, la zona 1 e la zona 2. In queste due zone sono state divise in altrettante microzone che consentono interventi puntuali e immediate, ma soprattutto i celeri, evitando la burocrazia dei singoli appalti per singola opera, ma quindi una gara che interessa più interventi contemporaneamente.